Musica Buongiorno, cerasicoltori delle colline veronesi e della Val d'Alpone e benvenuti al bollettino fitosanitario cerasicolo del 19 aprile 2024. Fase fenologica. Siamo in fase di allegagioni per le varietà tardive, mentre per le medie si è in scamiciatura. Per le precocissime siamo ad ingrossamento del frutto. Difesa fitosanitaria, parassiti, fungini, moniglie. In questa fase la vegetazione è recettiva. In previsione di piogge va eseguito un intervento fitosanitario utilizzando il trifloxtrobin o tembucolazolo o piracostrobin o boscalid. Per ridurre il rischio di resistenza si consiglia di utilizzare in miscela principi attivi con diverso meccanismo d'azione, come bacillus subtilis o altri bacillus. Parassiti animali, afide nero del ciliegio. In caso di presenza attuare un intervento con sali potastici, acidi grassi, detti anche saponi molli. Ad esempio, flipper o pirimicarbe o piretroidi come taoflovalinate, delta metrina, etofenprox. Falena brumale. Rilevate alcune erosioni su foglie. Eventuali interventi contro l'afide nero ne contengono la popolazione. Capua. Limitata presenza del ricamatore. Eventuali interventi contro l'afide nero ne contengono la popolazione. Cacecia dei fruttiferi. Saltuare erosioni su germoglie. Geometridi. Qualche rosura su giovani foglie, che lasciano intatta la nervatura centrale. Un saluto dal presidente Davide Danese e un arrivederci al prossimo bollettino.